Aveva insegnato per molti anni all'istituto tecnico Gagliani di Chieti, ma per la sola colpa di essere ebreo fu internato in un campo di concentramento a Lanciano. Il professor Aldo Oberdorfer era nato a Milano, come emerge dalle ricerche condotte da alcuni alunni del Gagliani de Sterlich, che hanno inaugurato insieme alla loro docente e alla presenza delle autorità una pietra di inciampo, una tradizione iniziata dall'artista tedesco Guter Denming per ricordare ovunque le vittime della Shoah e le azioni criminali poste in essere dal governo nazionalsocialista. Quella che è stata inaugurata stamane, proprio all'ingresso dell'istituto Gagliani di Chieti, è l'unica pietra di inciampo della città ed è la prima posta da una scuola in Italia, un san pietrino sostituito con una piccola lapide recante il nome della vittima. È un significato della memoria affinché le pagine più buie, più nere della nostra umanità non vengano a ripetersi nel futuro. Io appartengo a quella generazione di mezzo che ha avuto testimonianza diretta dai propri padri, dai propri nonni delle atrocità della guerra e la generazione dei quarantenni, dei trentenni e anche dei più giovani a cui dobbiamo assolutamente tramandare il ricordo di quelle atrocità e di quei giorni per far sì che queste cose non accadano più. È un discorso che può apparire scontato, ma scontato non lo è perché siamo in un momento della nostra umanità dalla memoria molto corta.